Lo sai? La tua voce assomiglia a quella di Alastor. Non è vero. Invece sì, solo a sentirla perfino la statua si è arrapata. Ha un carattere totalmente diverso. Non lo so, prova a urlare Angel, magari mi sto sbagliando. Ascolta, il fatto che sia doppiato in originale da Edward Bosco non mi rende Alastor. Il mio tono è più profondo, quasi irriconoscibile. So che ti sei divertito la sua trasmissione. Lo so perché, la stavo seguendo molto attentamente solo per ottenere delle informazioni su di te. Puoi dirmi un... PAUSE! Te l'ho detto. Io non sono Alastor. Pronto? Al, mi serve un favore. Charlie, sono al lavoro! Beh, smettila e vieni qua. Angel dice di essersi bloccato nella lavastoviglie. Dice che soltanto tu puoi tirarlo fuori. Arrivo.